buongiorno buongiorno al dottore claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera e professionale con la v maiuscola unica al mondo oggi rispondo ad una persona di new york che mi scrive dottore come si può e se si può avere l'entusiasmo l'energia il carisma la voglia di fare come le persone di successo come si fa a comportarsi ad agire e reagire sempre con le gomme gonfie durante la giornata di ogni singolo giorno di ogni singola settimana di ogni singolo mese di ogni singolo anno esiste la soluzione per eliminare gli alti e bassi la risposta è sì se si usa il potere della propria mente il potere del subcosciente e l'ipnosi di cs vera e professionale con la v maiuscola unica al mondo a tal proposito quando uno ha alti e bassi perché si fa comandare da stati d'animo negativi e stati d'animo positivi praticamente capita spesso e volentieri soprattutto nella società negativa in cui tutti noi viviamo di avere le gomme sgonfie quindi sentirsi spossati ipocondriaci avere paura un po di tutto spossati con stanchezza cronica che più ne ha più ne metta perché perché il nostro subcosciente vede si satura di cose negative cosa si può fare cercare di convincere educare il proprio subconscio ad eliminare tutte le nuvole nere i limiti il passato negativo che ti ha visto che ha visto persone prima di te comportarsi in ugual misura finché non elimini dal tuo subconscio queste immagini come ad esempio un nonno uno zio un papà una mamma un vicino di casa un personaggio televisivo che si dimostrava con alti e bassi umorali o con le batterie scariche o con le gomme sgonfie mai e poi mai tu potrai sentirti la persona più energica più forte più entusiasta della vita va bene dottore come si può fare con l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola unica al mondo se tu non riesci da solo e da sola puoi farcela anche senza fare sessione online di ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola unica al mondo anche scaricando due potenti e bellissime naturali audio mp3 dcs dal titolo super produttività superazione e l'altro è ego entusiasmo che tu trovi sul sito dell'associazione i prologi associati los angeles baby nils a cui ho ceduto tutti i miei diritti sugli audio mp3 dcs e ti posso garantire che camminerai sulle acque e te e aggiungo anche chi per te perché l'ipnosi dcs unica al mondo funziona anche per chi non vuole o chi non può essere aiutato seguendo le istruzioni veramente molto facili la prova di un nonno la prova di un idiota la prova di un pigro tu ti meraviglierai del potere della tua mente e sentirai un'energia incredibile in poche parole tu camminerai sulle acque giorno dopo giorno diventerai sempre più forte più energico più produttivo e la cosa bella è che tutto naturale naturale perché perché le suggestioni dcs le parole che ci sono in questi audio mp3 dcs sono suggestioni parole naturali trasparente trasparenti e comprensibili però parole dcs create ad arte ad hoc intrise impregnate di un antico sapere che sfiora un secolo e che provengono direttamente dai due grandi artisti dell'ipnosi vera e professionale con la v maiuscola il professore dottor michelanghele garai e la dottoressa rina brunini i miei maestri, i miei mentri, i miei associati, miei amici per l'eternità quindi scaricati questi audio mp3 dcs dal titolo super produttività superazione oppure ego entusiasmo tutti e due e ti meraviglierai del potere della tua mente nessun effetto collaterale neanche lo 0,0001% perché l'ipnosi dcs vera e professionale a v maiuscola seguo un iter diverso poi se te hai paura di te stessa, di te stesso, lì non ci posso fare nulla fammi, dimmi, scrivi giù nei commenti quello che vorresti che io approfondissi dimmi cosa ne pensi, se hai dei suggerimenti anche su temi diversi ti aiuterò ad approfondirli dal mio punto di vista, le mie esperienze visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook, ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino iscriviti a questo canale youtube, benessere, ipnosi, soluzioni di cesta del dottor Claudio Saracino e fa share condividi con amici e parenti perché puoi essere quel kid, quella molla che gli può e ti può cambiare la vita seguimi anche sulle altre social, instagram e twitter, benessere, ipnosi, soluzioni di cesta del dottor Claudio Saracino un bacio e un abbraccio amico mio, amica mia e alla prossima dal dottor Claudio Saracino alla tua, ciao